Il nostro è un no deciso, è un no territoriale, è un no non solo del sindaco di Cavaras ma dei sindaci di tutto il territorio con termini, oristano città, i comuni limitrofi, a un tentativo, credo incauto, di non garantire quello che era un accordo secondo noi molto ben assicurato, cioè quello di avere un giorno qui l'intera esposizione di Montecrano. Non credo che ci siano sistemi o metodi alternativi alla valorizzazione di questo complesso scultorio se non quello di esibirlo unito, tutto, nella nuova ala museale di Cavaras che sarà costruita apposta per loro. È una reazione sostanzialmente, deriva da certe dichiarazioni dello Stato che ci auguriamo siano molto presto reassorbite.